Chi è nato qui, in Calabria, a prescindere dal centro sociale, economico e culturale, è stato educato all'abbandono, come vittoria. Se tu abbandoni la tua terra, tu stai bene, a prescindere dal risultato che otterrai. Questo aspetto io l'ho avversato in maniera intima fino a quando non me ne sono accorto completamente. Quando poi ho acquisito anche la consapevolezza che era questo il problema col quale combattevo, ho deciso di ritornare, convintamente, di fare scelte completamente controcorrente, che nessuno ha condiviso. Lì ho cominciato a capire che io ero chi restava in quel che restava. E quel che resta è questi centri storici abbandonati, questi mondi così, che sono pieni di economia sommersa, o di economia potenziale, chiamiamola. Io dico di un'altra economia. Io penso di aver capito esattamente il mio amore per il Sud nel momento in cui i miei viaggi all'estero sono diventati frequenti, lunghi e costanti, fino al viaggio più importante in termini di formazione, che è stato il viaggio, sono stati gli anni di formazione universitaria di Erasmus. L'Erasmus l'ho fatto in Normandia, in un campus internazionale, acquisivo metodi e strumenti di indagine, che non erano i nostri, che però mi hanno dato la possibilità di capire quanto fosse importante e prezioso il mio essere e sentirmi mediterraneo. A cavallo tra il 97 e il 98, mentre mi trovavo con tantissimi coetanei studenti universitari nel campus a Ruen, organizzai quello che con alcuni amici chiamiamo subito un Erasmus, al contrario, raccogliere gli studenti universitari in Erasmus altrove e portarli in un luogo non universitario, quindi privo di sede universitaria e quindi anche formalmente ad occhio non vivace come una sede universitaria e decidemmo di farli partire da Ruen e di portarli addirittura a Cariati, che è un paesino della costa ionica calabrese e portiamo per la prima volta una ventina di studenti universitari di nazionalità diverse, tutti quanti a Cariati nella cittadella, per fare questa summer school con momenti di visita territoriale, di full immersion, con l'eno-gastronomia che comincia a diventare imperante in tutta la mia programmazione. Noi decidemmo di costituire un'associazione che chiamammo 8 torri sullo Ionio. In realtà era un po' il simbolo della Calabria, che è tutta un grande castello affacciato sul mare, perché la Calabria è sempre stata entroterra a tutela della incursione del mare. Da 20 studenti con un gruppo di volontari è diventata una summer school a tutti gli effetti, con docenti universitari, con crediti per le lezioni, con docenti anche di altre università, un programma di 10 giorni e con richieste da tutta Europa. La testimonianza è fondamentale, tu non puoi promuovere, proporre, parlare di grandi temi, sederti a tavolino e dire lo sviluppo del sud eccetera e trovarti altrove. Noi la prima cosa che dobbiamo fare è quello di stimolare ad abitare nei centri storici, a vivere nei centri storici e a trasformare quelle difficoltà in valore. Mi sono dato un obiettivo specifico che parte da uno studio che ho fatto sempre sull'identità e che sto cercando di condividere con le nuove generazioni alle quali voglio dare l'idea che c'è la possibilità di avere un ruolo e una professione, un'altra forma di economia che può essere utilizzabile e gestibile qui. Allora io sto andando dall'università, adesso mi stanno invitando a spiegare una cosa che mi sentono dire dal 97, il termine è il seguente, marcatori identitari distintivi. Individuo ciò che nei territori è distintivo di quel territorio. Individuare, mappare i marcatori identitari distintivi e costruire su di essi lo storytelling locale. Sulla base di questi marcatori identitari che intanto producono riappropriazione territoriale, dall'altra parte offrono la possibilità a tanti giovani di inventarsi un lavoro che si muove su un percorso identitario. Ci sono già almeno tre studenti universitari che hanno fatto tre tesi sui marcatori identitari distintivi e ce n'è una che sta tentando di avviare anche un'attività in merito. Ho fatto fare una lezione magistrale sui marcatori identitari distintivi al sindaco di Matera facendo capire come il mid sassi di Matera, che è un marcatore identitario distintivo, oggi è riuscito a far aumentare il PIN di Matera. L'Italia che cambia per me è il ritorno all'entroterra. Oggi vedo, non in termini di quantità, ma in termini di qualità, ci sono più ritorni e sono tutti ritorni motivati dal fatto anche della verifica, dell'aver verificato che altrove non ci sono possibilità di successo migliori di quelle che sono qui. Tanta gente oggi ritorna e ritorna con una convinzione precisa. Io ritorno perché mi vado a riprendere il pezzettino di terra che aveva il mio bisnonno, che è rimasto abbandonato e ci faccio un piccolo frantoio, una piccola cantina, eccetera. In questo momento la Calabria, secondo me, penso che una delle regioni che in proporzione è quella che sta facendo registrare i maggiori ritorni manageriali alla terra, cioè di giovani che sono formati fuori in facoltà diverse e che hanno deciso che è qui che possono vivere e addirittura tra le altre. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia siamo noi